Benvenuti a tutti e grazie per questa accoglienza. È una giornata questa che vi ha costretto un poco a mettere da parte le vostre occupazioni e venire qui in occasione di questo incontro che è veramente ben organizzato. È un incontro che mi offre tanti spunti di riflessione, tanti elementi di riflessione, anche perché mi è stato presentato formalmente il manifesto del mezzogiorno. E' il desiderio di ringraziare, se mi permettete, proprio tra i primi ringraziamenti. Uno lo rivolgo al senatore Castiello. Viabilità, infrastrutture, maggiori azioni per le aree interne e per arginare il fenomeno dello spopolamento, la carenza di personale presso il locale tribunale, la chiusura del Palazzo di Giustizia e del carcere di Sala Consilina. Sono dieci in tutto i punti del manifesto per il mezzogiorno sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nell'incontro tenutosi ieri al Teatro Leo de Berardinis di Vallo della Lucania, organizzato dalla Fondazione Grande Lucania Onlus, presieduta dal senatore del Movimento 5 Stelle, Franco Castiello. Una serie di richieste e proposte raccolte da Conte nel Cilento, raggiunto in ritardo rispetto all'urino di marcia per la visita al reparto di pediatria del San Luca, condito dalle strette di mano di chi lo ha atteso dinanzi all'ospedale. Poi l'arrivo al gremito auditorium vallese. Ad attenderlo decine di sindaci cilentani, valdianesi e degli alburni con la fascia tricolore, con l'inno di mameli intonato dagli studenti del locale conservatorio. Presenti anche numerose autorità civili e militari, oltre ai vescovi Ciro Miniero e Antonio De Luca, delle diocesi di Vallo della Lucania e Tegiano Policastro. I saluti istituzionali sono toccati al primo cittadino vallese Antonio Aloia. A seguire, gli interventi del presidente dell'Enteparco Tommaso Pellegrino, del presidente della Banca del Cilento Silvano Lucibello e del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che ha chiesto al Premier un prossimo passaggio in Consiglio dei Ministri per certificare l'uscita della Campania dalla fase di commissariamento per la sanità. All'esterno anche una delegazione di operai della Treofan di Battipaglia, che avevano invitato Conte a recarsi nella zona industriale battipagliese e lavoratori socialmente utili poi ricevuti a fine cerimonia dal presidente del Consiglio. Beh, innanzitutto la mia presenza qui è la testimonianza della costante attenzione del governo a tutti i territori del sud, della penisola e del sud in particolare, anche alle zone un po' più dimenticate, perché diciamo la verità che il Cilento, Vallo di Diano non sono tra le zone, come dire, al centro dell'attenzione. E questo passaggio è anche, non solo un segno di attenzione astratta, è un gesto anche di attenzione concreta. Ho richiamato tutte le misure che già abbiamo messo in cantiere in questa legge, in questa manovra economica. Ho anticipato anche alcune misure che confluiranno nel piano strutturale per il sud a cui sta lavorando il ministro provenzano, che tra breve, tra qualche settimana, sarà pronto. Sono territori che devono essere, lo dico sempre, devono essere aiutati, ma non ci può essere la singola azione. E' una strategia più complessiva, che richiede un fare squadra, fare sistema da parte di tutti. Da parte del governo locale, da parte del governo nazionale, dobbiamo saper spendere i soldi, non solo a postare, diciamo, ci sono delle dotazioni finanziarie anche importanti. Dobbiamo saperli spendere, dobbiamo spenderli con loro fianco a fianco, cercando di capire quali sono le misure migliori. Qui sicuramente occorre investire sul piano delle infrastrutture, perché dal punto di vista delle infrastrutture ferroviarie effettivamente c'è molto da fare. Già ad esempio nei prossimi giorni vedrete anche con il ministro De Micheli stiamo lavorando per rinforzare in generale per il sud anche il piano la rete ferroviaria.